benvenuti benvenuti a tutti gli amici del canale oggi ci troviamo a Zandvoort prossima tappa del campionato DTM che sarà sempre in diretta questo giovedì non ricordo il numero me lo metterò in descrizione il link al canale sempre su fabrace virtual tv dunque cosa dire di Zandvoort stretta tecnica dossi è una pista paraboliche molto tecnica andiamo a fare un giro tutto sempre curato dai ragazzi del team RECC sim abbiamo la corsia dei box abbiamo un sinistra destra cercherò di non morire sempre abbiamo una prima parabolica a sinistra ecco qua tutto giù per subito frenare poi abbiamo queste curve sono abbastanza strane perché da che larghe diventano subito strette io ancora devo fare un po' di pratica sulla pista devo ancora inquadrarla anche di A7 abbiamo questo curvone a sinistra ci metto su un altro falso rettilineo e poi un'altra S abbastanza stretta che ci mette verso l'ultima la penultima curva che noi cerchiamo di fare senza morire e qua abbiamo l'ultima la parabolica che facciamo in piena facciamo un altro giro dato che la giornata è bella facciamo un altro giro io amo il sound di questa BMW mi piace davvero tanto va bene abbiamo toccato fuori non ci fa nulla adesso la affrontiamo di terza questa si dovrebbe affrontare di seconda si dovrebbe frenare un po' prima decisamente è una pista davvero tecnica bisogna trovare tutti i punti per rosicare secondi fa molto veramente tanto l'assetto infatti dovrò lavorarci in questi giorni abbondantemente siamo andati lentucci ma non è importanza io sono sempre col visore quindi come vi ho detto anche negli altri video cambia tutto non riesco ad essere competitivo col visore virtuale detto questo io vi rimando allora a giovedì sera troverete il link in descrizione sul video insomma lo troverete da qualche parte vi aspettiamo sulla nostra pagina team rcsim anche sul nostro discord e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.